Buongiorno a tutti amici dei fuoricampo, tifosi rosa e nero e semplici simpatizzanti del mondo del Palermo benvenuti a questo nuovo video post partita di Brescia-Palermo terminata 4 a 2 io prima di passare a parlare della partita vorrevo come al solito ricordarvi chi siamo siamo i fuoricampo, un canale che dà ampio spazio al campionato della nostra serie B un campionato che troppo spesso viene messo da parte dalle televisioni dove non c'è copertura, dove non c'è un'analisi noi cerchiamo di portarvela ovviamente con la nostra competenza che speriamo sia sempre in migliorando per fare questo però abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno delle vostre condivisioni, dei vostri like, dei vostri commenti i like e le condivisioni ci permettono di far girare questo video e di farci conoscere, quindi di aumentare i nostri numeri aumentando i nostri numeri proviamo ad aumentare anche la nostra qualità con il commento invece cerchiamo di ottenere da voi e con voi un dialogo costante e sempre con una giusta però diciamo gentilezza, cordialità ed educazione che spesso manca su internet quindi mi raccomando like, commento e condivisione con i vostri contatti i commenti cerchiamo di mantenere sempre un minimo di educazione allora ragazzi, Brescia-Palermo non credo che questa gara possa essere analizzata solo come una partita singola perché viene a conclusione di un trittico Cremonese, Ternana e Brescia dove il Palermo esce dal campo con un punto se sulla carta un punto con la Cremonese poteva andare bene per come si è poi sviluppata la partita sono due punti persi, diventano otto punti persi visto le prestazioni con Ternana e con il Brescia io mi aspetto qualcosa da... ma ormai me lo aspetto da troppi mesi quindi so che non succederà perché si stanno verificando cose non adatte secondo me alla qualità che c'è in questa rosa questa è una squadra scarica mentalmente questa è una squadra che vola e precipita con troppa semplicità è una squadra che vive di pura qualità dei suoi singoli non ha un gioco, non ha una concezione, non ha un'idea di gioco non ha una fase difensiva, non ha una fase offensiva dettagliata e a questo punto ha il carattere a tratti il problema principale secondo me di questo Palermo è anche quello perché credo che a tutto, a una fase difensiva organizzata a una fase offensiva organizzata a un'idea di gioco si possa sopperire lì dove la qualità dei giocatori è tanto più alta della categoria e credo che in questo momento il Palermo possa ancora rientrare in quella fattispecie di squadra però quando manca il carattere quando manca la convinzione quando scendi in campo per fare il compitino questo non basta più ripeto, penso che la qualità del Palermo sia altissima ora, dove e quando alla fine lo dirà la classifica perché altrimenti sono chiacchiere io continuo a pensare che sia una delle rose più forti e più complete di questa serie B però manca qualcosa mentalmente e quando ti manca qualcosa mentalmente poi in campo succede quello che abbiamo visto in questa partita quello che abbiamo visto a Terni quello che abbiamo visto con la Cremonese perché tu stacchi la spina mentalmente nel calcio moderno non te lo puoi permettere perché mentre 40 anni fa se tu staccavi la spina andavi a giocare magari con una squadra atleticamente non eccelsa non iperallenata e allora potevi comunque gestire nel calcio moderno quando tu stacchi la spina giochi con super atleti professionisti che si allenano tutti i giorni che vanno a 2000 e ti purgano allora io tutto questo preambolo di 3 minuti capisco che è un pippone però va fatto va fatto perché la partita di oggi di fatto è una partita che finisce al minuto 23 quando Marconi viene espulso sei tu sotto numericamente hai il vantaggio di un gol avresti la possibilità di gestire ma se non sai gestire due gol di vantaggio e l'uomo in più figuriamoci gestire una gara dove sei in dieci ma la cosa ridicola la prestazione ridicola secondo me si vede al minuto zero perché di fatto il primo gol del Brescia avviene al 30 secondi da inizio della partita dopo una orribile prestazione con la Ternana dopo due punti buttati con la Cremonese in un minuto perché di fatto la Cremonese fa due gol in un minuto io non mi aspetto questo approccio non mi aspetto la leggerezza con cui tutta la squadra del Palermo affronta i primi 30 secondi la difesa è schierata due cross che passano per l'area di rigore completamente guardati dagli uomini di Corini Borrelli fa un bel gol perché poi alla fine il primo gol è un bel gol di tacco non fai neanche in tempo a leggere le formazioni perché passa subito in vantaggio il Brescia però lì la tenuta mentale te la dimostrano quei primi 30 secondi poi la qualità c'è Brunori sul calcio di rigore pareggia su un'ottima giocata di Di Mariano che rientra e viene falciato rigore netto e Brunori lo segna quarto gol consecutivo per il capitano di Rosa Nero con la qualità e un pizzico di fortuna riesci anche ad andare sul 2-1 perché il tiro di Di Francesco è sia angolato ma viene sporcato una traiettoria molto particolare alla fine al 13-1 ti ritrovi in vantaggio pur senza aver fatto qualcosa di eccezionale per ritrovarti fai difficoltà perché una squadra forte come il Palermo che si ritrova di nuovo in vantaggio al minuto 13 sostanzialmente con un tiro in porta sporcato non può avere dei cali mentali e invece una palla un lancio da centro campo dove Lund e Marconi sono in 2-1 in vantaggio diventa la sagra del pastrocchio perché Lund allunga la palla Marconi non è più sull'uomo stende il suo direttore rivale è già ammonito viene espulso poi fortunatamente il rigore viene tolto perché il fallo è fuori aria ma poco poco conta perché ti ritrovi sotto di un uomo e mentalmente la partita finisce perché poi hai la fortuna nel gol di Francesco ma ad esempio questo è un anno dove ti trova il gol della vita Baghera primo gol in serie B tiro da fuori a giro e la palla va sotto il set anche questo fa la differenza di una stagione potenzialmente in una stagione dove non non ti gira tutto male quel tiro magari va alle stelle oppure prende il palo oppure viene parato no ti tirano fuori anche l'euro gol della settimana e ti ritrovi a parità di punteggio quello che però succede al minuto 41 con il 3 a 2 di Borrelli ritorniamo ai primi 30 secondi una squadra con una prestazione una cattiveria praticamente nulla che ha difesa schierata non sul primo ma su ben due cross subisce la fisicità di Borrelli che mette in in ridicolo perché prende posizione e lo sovrasta completamente il povero Ceccaroni e porta al 3 a 2 il Brescio a fine a fine primo tempo un Ceccaroni che era era stato tenuto in panchina all'inizio poi ovviamente l'espulsione di Marconi ha portato a a dover rimettere in campo Ceccaroni che già con la Ternana aveva fatto due errori importantissimi il quarto gol è è quello che vi dicevo quando anche in un momento comunque difficile in un momento però dove il risultato puoi magari aggiustarlo con un colpo di fortuna come il gol di Di Francesco ti ritrovi a subire il 4 a 2 su un parapiglia in aria che sbatte su 2-3 giocatori del Palermo e batte Piacelli il secondo tempo ragazzi è ordinaria amministrazione il Palermo non fa assolutamente nulla in inferiorità numerica per andare a provare a recuperare la gara ma ci sta mentalmente non c'è il Brescia non affonda forte dei 4 gol e dei 2 gol di vantaggio perdi una partita che tutto sommato meriti di perdere meriti di perdere per l'approccio iniziale di quel di quel minuto che già ti rende l'idea come di come questo questo Palermo sia non messo in campo è proprio la prestazione mentale che mi preoccupa ragazzi se con il Como la difesa aveva retto stiamo parlando di 8 gol subiti in 3 partite questi non sono numeri da squadra che può puntare a una promozione diretta 38 gol subiti su 28 partite sono troppi sono troppi anche in una serie B dove comunque non ci sono difese chissà quanto attrezzate ma il Brescia con cui giocavamo oggi prende 10 gol in meno del Palermo una differenza che non è non è fattibile hai 10 gol subiti in più del Como hai quasi 20 gol subiti in più della Gremonese hai 10 gol subiti in più del Parma sono troppi sono troppi per poter pensare di avvicinare una promozione diretta che adesso vediamo mancano tutte e tre quelle che ti stanno davanti mancano le partite di Venezia Gremonese e Como potrebbe oggi già distarti 8 punti completamente annullato il quanto di buono avevi fatto nelle partite precedenti perché prima della Gremonese e tra il pareggio con il Catanzaro e il pareggio con la Gremonese il Palermo aveva infilato tre vittorie consecutive di fatto quei 9 punti oggi sono stati annullati da 8 punti persi e ripeto se il pari con la Gremonese sulla carta ci può stare le sconfitte interna con la Ternana ed esterna al Brescia parla di un Palermo in crisi mentale dei risultati andremo all'Ecco la prossima e poi ci sarà il Venezia in 5 giorni secondo me ti giochi le ultime piccole speranze di poter restare in corsa per questa promozione diretta a cui si aggiunge il fallimento dell'anno scorso perché si la società aveva parlato solo di mantenere la categoria e questo era stato fatto però per come si è perso l'opportunità di entrare ai playoff secondo me non si può non sottolineare il fallimento tecnico di una guida che nei momenti positivi sembra quasi solo sfruttare la qualità di questi giocatori nei momenti negativi non ti dà assolutamente nulla per cambiare lo status quo anzi una guida tecnica che ti parla di una sconfitta fisiologica perderanno anche le altre andremo in campo con la cattiveria e poi ti ritrovi un primo minuto i primi 30 secondi fatti in quel modo un rientro dagli spogliatoi come con la gremonese la prestazione con la ternara io ragazzi faccio fatica a non dare non dico il 100% perché poi in campo vanno i giocatori ma un buon 60% di colpa a una guida tecnica che è stata messa in condizione di poter secondo me stravincere questo campionale di serie B e invece sta palesando tutti i limiti che però si erano già vissi gli anni precedenti io vi saluto vi ringrazio per la vostra attenzione oggi avendolo visto con più con più calma riesco a farvi un commento secondo me più freddo e forse anche un po' più cattivo però quest'anno secondo me il Palermo sta cestinando una grandissima opportunità perché ha una rosa completa aggravata di qualità da da un mercato di gennaio fatto fatto bene perché Ranocchia di Aghi Testo sono giocatori importanti chiaro l'assenza di dilucioni si si sta facendo sentire però non giustifica gli ultimi due risultati perché ripeto sulla carta il pareggio con la Cremonese ci può stare questo è il mio pensiero ditemi cosa ne pensate voi nei commenti ci vediamo al prossimo video mi raccomando like condivisione e commento ciao a tutti